Attimi di apprezzione per una ragazza indolce attesa che è risultata positiva al coronavirus. Secondo una prima ricostruzione dei fatti si tratta di una 37enne ebolitana incinta che dopo aver svolto il tampone molecolare è risultata positiva al covid-19. Appena appresa la notizia la 37enne è stata dapprima isolata e poi ricoverata al nuovo policlinico di Napoli. Il trasferimento è avvenuto nella mattinata di ieri martedì 7 settembre. La paziente, entrata nel quinto mese di gravidanza e probabilmente proprio per il fatto che fosse indolce attesa, non si è sottoposta al vaccino anticoronavirus e ha contratto il covid-19 dopo aver registrato i sintomi dello scorso weekend. I primi sentori che qualcosa non andava sono giunti prima con la febbre e poi la fatica nel respirare. La conferma del contagio è arrivata dal tampone molecolare che ha dato esito positivo ed ha creato subito apprezzione per tutta la famiglia. La 37enne ha evitato contatti con altre persone ma ha comunque contratto il virus. Appurata la positività non è restato altro da fare che il trasferimento a Napoli, dato che il reparto covid di Eboli ha chiuso e quello di Agropoli non avrebbe posti a disposizione. E poi, visto lo stato di gravidanza, era necessario subito intervenire in caso di crisi respiratoria oppure l'aumento della febbre. Invece, per quanto concerne i dati sui numeri della pandemia, secondo il consueto bollettino diramato dall'unità di crisi, sono 311 positivi al covid-19 in regione Campania e su 14.352 tamponi analizzati. Per quanto riguarda i recessi, invece, sono 5 nell'ultimo 48 ore e 2 in precedenza, ma registrati ieri.